solax power per il vostro impianto fotovoltaico ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video vi presento un nuovo sistema integrato only one per realizzare il vostro impianto fotovoltaico con accumulo come al solito per questo tipo di prodotto faremo tre video quindi vi presento prima il prodotto poi vi farò vedere come si installa installazione semplicissima e velocissima poi lo userò per un po di tempo e vi farò vedere l'applicazione lo storico in modo da fare un quadro completo del prodotto apro subito una piccola parentesi perché questi sono dei video dove cerco di farvi conoscere il prodotto sia a livello di installatori che a livello di clienti perché il cliente può vedere questo prodotto e chiederlo al proprio installatore l'installatore può cercarlo dal proprio distributore è inutile che mi scrivete nei commenti e ma quanto costa il costo può variare in base al distributore alla scontistica che vi riserva al prezzo che vi da l'installatore chiave in mano non esiste che voi vi comprate un prodotto del genere e ve lo montate non è una power station io vi faccio conoscere il prodotto ma non vi do i prezzi perché i prezzi ve li deve fornire chi ve lo installa o chi ve lo vende per installarlo allora solax power qualcuno sicuramente la conoscerà magari qualcuno non sa bene di che azienda stiamo parlando solax power ha venduto il suo primo inverter nel 2011 è andata avanti si è espansa in una maniera incredibile nel 2021 ha vinto un premio red dot e ad oggi ha molti investitori e azionisti importanti perché è un'azienda mondiale ha diverse sedi sparse per tutto il mondo qui in europa abbiamo una sede che segue direttamente il mercato europeo e nello specifico il nostro mercato italiano in italia abbiamo un servizio tecnico dedicato per gli installatori li ho anche già contattati sono preparatissimi formatissimi veloci e hanno un organico completo per ogni esigenza questa non è proprio un'azienda piccola io vi dico solo senza fare nomi che molti degli inverter che avete a casa o che installate o che vi vendono in realtà sono prodotti da solax per altri marchi e questo nonostante sia uno degli ultimi prodotti usciti soprattutto per il residenziale solax in realtà produce delle robe veramente grandi che in confronto questo qui è un giocattolino ma vi parlerò poi più avanti dei dati e vedrete che assolutamente non è un giocattolino perché ha dei dati che pochi se non nessun altro competitor può avere questa gamma di prodotto si chiama xis è un sistema modulare perché c'è una base modulo batteria da 5 modulo batteria da 5 quindi qui abbiamo già in questa configurazione 10 kilowattora di accumulo e l'inverter inverter che all in one ha la funzione di backup ha dei dati pazzeschi che vedremo più avanti e anche a livello estetico si presenta benissimo in questa finitura bianca opaca con questa fascia nero lucido dove avremo delle indicazioni dei pulsanti e anche un display bello semplice minimale ma si integra perfettamente in qualsiasi ambientazione esiste monofase ed esiste trifase questo si chiama x1 is la versione trifase si chiama x3 is vi presento il prodotto monofase prodotto monofase come vi ho già detto abbiamo 10 kilowatt di batterie e l'inverter in questo caso è un 6 kilowatt che mediamente il taglio più diffuso sistema completamente modulare si incastrano i pezzi uno sull'altro oltre ad essere bello ben realizzato è anche relativamente compatto perché abbiamo una larghezza di 73 cm e una profondità di appena 21 cm chiaramente l'altezza dipende dal numero di batterie che installate sul sistema monofase possiamo arrivare fino a 20 kilowattora di accumulo sul sistema trifase 30 questi 20 kilowatt di accumulo possono essere monocolonna oppure possiamo avere due colonne splittabili installazione a pavimento come in questo caso o col kit anche a parete lavora da meno 30 più 50 gradi e ha una certificazione ip 66 vedremo più avanti che tutte le connessioni tutti i coperchi eccetera sono tutti completamente dotati di o ring vi anticipo già che anche qua a livello di dettagli qualità costruttiva eccetera è altissimo tra le caratteristiche salienti di questa gamma di inverter abbiamo una possibilità di avere una potenza del parco fotovoltaico quindi di quello che può entrare come tensione in dc dalle stringhe del 200% rispetto alla potenza che può dare l'inverter 200% fidatevi che non è poco anzi non so quanti raggiungono questi dati e vi anticipo già avendo fatto due chiacchiere con il direttore italia che a livello di hardware sono tutti i prodotti predisposti per avere ancora un boost ulteriore nel tempo se cambiassero le specifiche del parco fotovoltaico e se i prodotti per produrre energia diventassero più generosi come corrente rispetto a quelli che abbiamo oggi tutta questa sovra produzione nel dimensionamento del parco fotovoltaico chiaramente viene indirizzata alle batterie per avere una carica più veloce i modelli dal 5 kilowatt in poi come questo che un 6 hanno tre ingressi stringa quindi 3 mppt separati e la funzionalità e ps quindi di backup garantisce per ben 10 secondi il 200 per cento della potenza disponibile soprattutto per i carichi induttivi che hanno un grosso spunto è un full backup quindi da assolutamente tutta la potenza dell'inverter anche in assenza della rete come abbiamo detto questa è la versione monofase ma pensate che la versione trifase lavora a fasi sbilanciate e si possono parallelare fino a 10 unità altre due caratteristiche importanti e che è predisposto per l'intelligenza artificiale quindi ai ready ed è anche vpp ready abbiamo poi delle altre caratteristiche importanti perché ha la possibilità di comandare direttamente una pompa di calore o altre apparecchiature può essere collegato a un generatore poi altre due caratteristiche molto importanti la prima è che può lavorare come sistema retrofit quindi anche tenendo un impianto fotovoltaico con inverter resistente lui può lavorare in retrofit quindi caricando le batterie tramite l'altro impianto e utilizzando l'accumulo immettendo nell'impianto io non amo mai fare il retrofit però è fattibile un'altra caratteristica molto particolare sempre legata all'esistenza di un altro inverter nello stesso impianto è che in modalità backup ips simula l'uscita microgrid la rete generata dal suo sistema ips è la medesima come caratteristiche rispetto al fornitore quindi non cessa di funzionare l'altro inverter resistente i tagli dell'inverter sono 3 kilowatt 3.7 kilowatt 4.6 kilowatt 5 kilowatt 6 kilowatt come questo e c'è anche l'otto kilowatt monofase con una sola batteria abbiamo una potenza di carica scarica di 5.1 kilowatt mentre con due più batterie riusciamo ad arrivare a 8 kilowatt l'inverter che proviamo noi quindi il 6 kilowatt come abbiamo detto prima al 200 per cento della potenza del parco fotovoltaico gestisce fino a 12 mila watt sugli mppt tensione massima di stringa 600 volte vedremo poi tutti i dati nella targhetta sull'inverter in fase di installazione ma il video di oggi serve a presentare il prodotto dove vi ho già dato dei numeroni secondo me molto importanti e stiamo parlando come detto prima di un brand che non è proprio nato ieri questo è tutto il video di presentazione finisce qui a breve ci sarà il video dell'installazione poi passerà qualche tempo finché vi darò un vero feedback sull'utilizzo installato qui da me con il mio impianto di produzione a tetto questo è tutto state in campana se il video vi è piaciuto un bel like noi ci vediamo al prossimo video prossima diretta del giovedì sera o come al solito se passate negozio da torino vi offro un caffettino grazie a tutti ciao da massidattoli